E' un'applicazione, non sfrutteremo niente, però sfrutteremo la visione di WSky è uguale, però non è necessario il Dazong Dazong è una mecca Dazong è una mecca Dazong è una mecca, me lo devi far vedere bene me lo devi far vedere bene io favo questi 60 euro che da Zong però me li devi far vedere bene se no queste cazzo di 60 euro ti pago per niente me lo devi far vedere bene sotto cazzo della Zong e che cazzo c'è raga 60 euro possa, se non funziona non devo pagare così per niente vabbè vabbè perchè se no, se altrimenti c'è la Zong se adesso non c'è ma la fanno vedere su Sky meno male perchè se c'era la Zong ma la fanno vedere su Sky quindi vi saluto ci vediamo stasera dopo la partita da Dazong è già grazie 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 grazie